Insomma c'è il parroco del paese che gli continuano a sparire le galline e le uova e questo è avvelenato, diciamo domenica c'è la festa del padrono non lo metto al confessionale, lo devo beccare questo la domenica si mette al confessionale e a fine della confessione gli fa la domanda ma chi è che si ruba le galline con l'uova mie? e nessuno gli risponde ma a un certo punto era rimasto l'ultimo pure a questo arriva la domanda chi è che si ruba le galline con l'uova mie? e questo date fuori gli fa ho detto chi è che si ruba le galline con l'uova mie? scusi parroco ma non ho capito, non si sente qua ho detto chi è che si ruba le galline con l'uova mie? ah ma parroco qua non si sente niente ma com'è possibile? scusi, mettete dentro al posto mio come se mette dentro al posto suo questo gli fa chi è che va a letto con mi moglie? e il parroco dei fuori come? ho detto chi è che va a letto con mi moglie? ah cos'è che c'ha ragione? non si sente niente qua dei fuori